Educare un bambino da solo non è così semplice. Ci sono sempre attriti e incomprensioni. Elisabetta lo sapeva, ma ha deciso di rischiare e prendere una bambina dall'orfanotrofio. Nonostante vivesse senza un marito, le è stato permesso di adottare la ragazza. Tutto sembrava normale, finché la figlia non è cresciuta e ha iniziato a rivendicare i suoi diritti. Il primo campanello d'allarme suonò quando Marina compì 14 anni. Quel giorno non tornò a casa in tempo dalla scuola. Elisabetta chiamò tutti, ma nessuno l'aveva vista, e solo alle due di notte la porta si aprì con la chiave e comparve la figlia. Ovviamente, Marina era fuori di sé, quindi la madre non la tormentò con domande. La aiutò a raggiungere il letto e la mise a dormire. Il giorno dopo iniziarono gli interrogatori. Dove sei stata tutto questo tempo? Ho chiamato tutte le tue amiche, ma nessuno ti ha vista. Marina sedeva in cucina tenendosi la testa. Mamma, prima di rimproverarmi, dammi dell'acqua e un'aspirina. Elisabetta eseguì la sua richiesta e riprese a fare la predica. È inconcepibile che una ragazza minorenne torni a casa di notte, e anche in quello stato. Le accuse erano giustificate, perché Marina dipendeva completamente dalla madre. Ma non era questo il punto principale. La ragazza aveva violato tutti i principi morali. Il fatto che fosse tornata a casa dopo mezzanotte era il meno. Ma il suo comportamento inadeguato indicava che Marina poteva essersi mescolata con una compagnia dubbiosa. Questo era motivo di riflessione, perché era la strada diretta verso il fondo della società. Era proprio questo che Elisabetta voleva farle capire, ma Marina sembrava non ascoltare. Saltò giù dalla sedia e corse fuori dalla cucina. La ragazza sedette nella sua stanza e non uscì. La madre pensò che si fosse calmata, ma poi la figlia uscì e andò nell'ingresso. Lì si mise le scarpe e, uscendo dall'appartamento, disse alla madre, ti odio e non voglio più vederti. Elisabetta abbassò le braccia e si sedette sul divano. Voleva piangere, ma si trattenne. Dopo pranzo Marina tornò a casa. Ma la madre non c'era più. Inizialmente la figlia pensò che la donna fosse andata da un'amica, ma, quando passarono 24 ore e la madre non apparve, la ragazza si allarmò. Chiamò la nonna e le raccontò cosa era successo. Tamara arrivò lo stesso giorno. Chiese di nuovo cosa fosse successo. Poi iniziò a chiamare amici e parenti. Infine, quando tutte le possibilità furono esaurite, Tamara disse, vedi a cosa ha portato la tua dissolutezza. Elisabetta mi ha detto come tornavi a casa tardi e anche ubriaca. Non ti vergogni a questa età. Marina si accigliò e disse, basta rimproverarmi, non sono più una bambina. Prima mamma mi leggeva le annotazioni, ora anche tu. Tamara la guardò e disse, proprio per questo. Non sono tua madre e non ti passerò nulla. Oggi arriverà il nonno e ti spiegherà tutta la verità della vita. Vediamo cosa dirai allora, quando dimenticherai i tuoi amichetti. Questa prospettiva non entusiasmava Marina, perché capiva che avrebbe dovuto rinunciare alla vita sregolata. Inoltre, la madre era scomparsa, il che imponeva certi obblighi. La nonna mantenne la promessa. Due ore dopo arrivò il nonno e fu nominato guardiano. Non solo teneva d'occhio la nipote, ma la prendeva anche dalla scuola. E Tamara continuò a cercare Elisabetta, ma non arrivò nessuna informazione. Improvvisamente squillò il telefono. Era sua sorella. Ho sentito che la nipote è scomparsa, ma l'ho vista di recente con un uomo. Tamara non poteva crederci. Forse la sorella si era sbagliata. Elisabetta non poteva passeggiare per strada senza preoccuparsi di ciò che stava accadendo a casa sua. C'era una parte di verità in questo. La donna era effettivamente con un altro uomo. Ma non per puro piacere. Aveva bisogno di tempo per calmarsi. E letteralmente il giorno dopo, Tamara riuscì ad incontrarla. Elisabetta spiegò così la sua scomparsa. Mamma, sono stufa di lottare con lei. So che non la lascerai. Lascia che Marina stia senza di me per una settimana e vediamo come cambia. Tu sai come educare nel modo giusto. Io ho un carattere debole. Tamara sorrise e rispose. Va bene. Esaudirò la tua richiesta. Ma ricorda che la prossima volta dovrai occupartene tu stessa. Grazie almeno che il nonno aiuta. Quindi non dimenticare di ringraziare tuo padre quando ne avrai occasione. La figlia fu sollevata che la conversazione si fosse conclusa con conclusioni costruttive e tornò al suo appartamento segreto. Lo chiamava così, il suo rifugio, dove poteva stare da sola e riflettere. E l'uomo si rivelò essere il migliore amico del suo defunto marito, morto poco prima che Elisabetta prendesse Marina dall'orfanotrofio. Per questo la ragazza lo conosceva solo dalle foto. Quel giorno, Semion portò la nipote a casa dalla scuola. Si assicurò personalmente che andasse a lezione e poi attese a lungo finché Marina non uscì dall'istituto. A casa, la ragazza iniziò a parlare. E quanto durerà la mia attuale situazione? Per quanto tempo ancora dovrò rimanere chiusa in casa e costantemente controllata? La nonna sorrise e mise davanti a lei un piatto di porrigge. Finché non imparerai a comportarti bene, guarda fino a che punto hai portato tua madre, tanto che è andata via di casa. Marina la guardò con sguardo scontento e si bilò tra i denti. E allora, che se ne vada dove vuole, la odio e non voglio vederla. Tamara stava quasi per svenire. Fortunatamente il nonno era vicino e riuscì a prenderla in tempo. Semion fece sedere la moglie in una poltrona e si rivolse alla nipote. Basta compatirti. Oggi e nei giorni a venire non andrai dalle tue amiche. Devi studiare. Questo era così spiacevole da sentire che Marina sbuffò e andò nella sua stanza. Li chiamò un'amica e quasi urlò nel telefono. Mi hanno chiuso in questa casa. Immagina, il nonno ha proibito di vedervi. Non so cosa fare ora. Non posso neanche uscire. La compagna di classe Tatiana, per qualche motivo, non prese le sue parti. So perché ti hanno messa al bando. Hanno ragione. Perché litighi con tua madre, che fa tutto per te. Marina non si aspettava affatto questa risposta. Oh, che amica sei. E volevi anche che andassimo fuori città insieme. Tatiana sospirò e rispose. Non voglio più niente. Inoltre, mamma e papà stanno programmando una gita in campagna. Quindi non dovrò chiedere loro il permesso. La ragazza capì di non avere più sostegno. Finché mamma non tornerà e non faranno pace, non c'è nulla di buono da aspettarsi. La nonna entrò nella sua stanza e disse. Sto per fare dei pancache. Con cosa li vuoi? Marina, sebbene fosse arrabbiata con lei, non poteva ingannare il suo stomaco. Mi piacciono con la marmellata o con il latte condensato. Tamara annui e uscì. Si sentivano rumori di stoviglie in cucina. Poi la voce del nonno, che aiutava anche lui. Dopo mezz'ora la chiamarono a tavola. Basta fare la musona, vieni a provare i pancache. Marina effettivamente si gonfiò le guance e cercò di fare la vittima. Quando assaggiò alcuni pancache, osservò con piacere. Nonna, sei così brava a cucinare. Mentre mamma raramente li faceva. Forse dovresti insegnarle. Tamara la guardò sorpresa. Elisabetta sa fare tutto, ma si scoraggia facilmente. Pensa, come si può cucinare quando non sei per niente dell'umore giusto, specialmente quando qualcuno continua a rovinartelo? Fu allora che la ragazza capì di aver fatto delle sciocchezze e desiderò ardentemente correggere tutto. Ma come fair, se la madre era scomparsa? O forse si trova semplicemente in un altro posto e non vuole tornare a casa? Allora bisogna trovarla urgentemente. E la prima cosa da fare è parlare con la nonna. Scusa se ho urlato. Ho capito i miei errori e sono pronta a correggerli. A questo punto intervenne Semion nel discorso. Va bene, avrai la tua opportunità, ma ricorda che le cattive azioni non vengono mai dimenticate. Quindi, se ti verrà di nuovo voglia di contrariare tua madre, pensaci cento volte. Elisabetta ti ama molto, è un peccato che tu ti comporti così con lei. Il nonno stava quasi per dire che la madre l'aveva presa dall'orfanotrofio, e lei la ringraziava in questo modo. Ma si fermò in tempo, perché Tamara gli fece segno con la mano. Naturalmente, la verità sarebbe comunque venuta fuori, era solo questione di tempo. Ma perché dirlo prima, se si può aspettare? Tamara non voleva ammetterlo, perché aveva affidato questo ruolo a Elisabetta. E quel giorno stesso la chiamò. Non devi più nasconderti dietro sette serrature. Tua figlia si è scusata e vuole fare pace. E come lo farai? Pensaci tu, ma non tardare. Elisabetta aveva già pianificato il suo ritorno, ma prima di tutto voleva incontrare Marina in un territorio neutrale e li raccontarle tutto sull'orfanotrofio. La donna scrisse un biglietto e lo lasciò nella cassetta delle lettere. Il trucco funzionò e la figlia si presentò al caffè quella sera. La madre la invitò al tavolo con un gesto. La ragazza si sedette come se accanto a lei ci fosse uno sconosciuto. Ma dopo un minuto abbracciò sua madre e scoppiò in lacrime. Perdonami per averti causato tanto dolore. Ho visto così tante volte le foto di papà e ho sempre pensato di assomigliargli nel carattere. Ma poi ho letto per caso la vostra corrispondenza e ho capito che lui non è mio padre. Conosco la verità, mamma, voi non siete i miei genitori, vero? Elisabetta rimase scioccata, voleva essere lei a confessarlo, ma gli eventi si erano accelerati. La nonna non poteva averglielo detto, quindi la figlia aveva scoperto la verità da sola. Elisabetta si avvicinò e disse «Io e Victor avevamo un figlio, ma è morto in un incidente e mio marito è deceduto pochi giorni dopo. Poi ho passato due mesi in ospedale per le ferite, ma sono sopravvissuta e mi sono promessa che non avrei più avuto figli. Tuttavia, col tempo ho capito che la vita continua e non vale la pena di tormentarsi con la solitudine. Marina le passò un fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Qualcuno mi suggerì di prendere un bambino dall'orfanotrofio. Così sei arrivata a casa mia, ora non ho più nulla da nasconderti». La figlia guardò la madre e disse «Lo sapevo da tempo, aspettavo solo che tu me lo raccontassi. Ho bisogno di una relazione basata sulla fiducia, non sull'inganno e sui sospetti». In questo, la ragazza aveva ragione. Elisabetta avrebbe dovuto dirle la verità molto prima, ma aveva paura perché non sapeva come avrebbe reagito Marina e non aveva nessuno a cui chiedere consiglio. I genitori, pur aiutandola con consigli, non erano molto esperti in psicologia. Così era arrivata al punto di dover lasciare la casa. Marina abbracciò sua madre e disse «Non sparire più, promettimi che parleremo di tutto». Elisabetta annui e rispose «E tu prometti di liberarti dalle cattive abitudini e di non trattarmi male se dico qualcosa di sbagliato». Alla fine, madre e figlia si accordarono di cercare sempre un compromesso. Un'ora dopo erano già a casa, dove Tamara e Samuel le aspettavano. I genitori erano felici che la famiglia si fosse finalmente riunita. La madre guardò Elisabetta e chiese sottovoce «Allora, sei riuscita a confessarle?» La figlia mise una mano sulla spalla di Tamara e rispose «Tutto bene. Ora non ci saranno più disaccordi. Sono sicura che Marina cambierà. Ha solo bisogno di tempo. E poi è in piena adolescenza. Ricordate come eravate a quell'età. In effetti, quando gli adolescenti iniziano a cambiare nel carattere, è tutto colpa del loro corpo». Marina migliorò gradualmente i suoi voti e iniziò a studiare diligentemente. Alla fine si riconciliò con quell'amica, perché capì che bisogna ascoltare gli adulti e non affrettarsi nelle conclusioni. E ringraziò il nonno per averla sorvegliata. Sembra che Semion abbia protetto la ragazza dal tentativo di immergersi nuovamente in un mondo di crudeltà e disuguaglianza. E Elisabetta ringraziò i genitori per il loro aiuto. Nei momenti difficili, quando non sai cosa fare, arrivano in aiuto le persone più vicine. E non sono fratelli o sorelle, ma i genitori. È loro che bisogna custodire e apprezzare il tempo trascorso insieme. Poi sarà troppo tardi. E Marina lo aveva capito bene. Aveva sperimentato cosa significa la mancanza di affetto materno, quando non c'è nessuno a cui confidarsi e da cui chiedere un consiglio sensato. Un consiglio sensato. Dunque